Ciao ragazzi da TheDarkPino e oggi siamo qui di nuovo con un altro video su come scaricare minecraft ma stavolta lo Shinigma Launcher quello di prima era il Kenit Launcher e ora vi farò vedere come scaricare lo Shinigma Launcher andate sempre su questo link che come sempre vi lascio in descrizione e fate download una volta scaricato lo troverete qui lo aprite e ci sono questi IP file io in questo caso faccio Windows e faccio Shinigma e lo trascino sul desktop e già è scaricato poi lo aprite lo installate tutte cose ecc io lo elimino perché lo Shinigma non mi serve perché giavolo il Kenit Launcher quindi lasciate un like iscrivetevi e ad un prossimo video bella